Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Grazie, passiamo ora alla parte interattiva della conferenza stampa, sempre con la preghiera di formulare una domanda a ciascuno. La prima domanda è da Monica Guerzoni del Corriere. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Vorrei chiedere al Presidente Draghi con quale animo ha poi maturato appunto la convinzione, dopo forse anche tanti dubbi e tanti interrogativi, di arrivare a questo provvedimento. È riuscito a ricucire la maggioranza di governo, se si aspetta di riuscire a ricucire anche un Paese che è diviso tra una maggioranza che largamente ha accettato di vaccinarsi e una minoranza che non lo ha fatto e che in parte ha manifestato anche in modo molto aggressivo nelle piazze. Ecco, se l'obbligo vaccinale, come tanti pensano, non sarebbe stato un modo per ricucire il Paese, a differenza di questo provvedimento. Non è una tesi, ma è una domanda. Grazie. Ma intanto quelle che sembravano essere delle diversità di posizioni prima del Consiglio dei Ministri, poi durante il Consiglio dei Ministri, sono in effetti sparite. Quindi la decisione è stata unanime e questa è una prima osservazione. È molto importante, anche proprio per ricucire questa situazione di contrapposizione tra chi si vaccina e chi non si vaccina, che il governo sia compatto nelle sue determinazioni. Non ci siano, come dire, cedimenti, posizioni un po' diverse. Come abbiamo visto, purtroppo, tante altre volte nella storia italiana di fronte a fenomeni di grande importanza sociale, come tra l'altro questo è, indubbiamente. Quindi questa è un po' la prima cosa, perché la mancanza di compattezza viene poi utilizzata anche come scusa per l'evasione dall'obbligo, per la contrapposizione, per la tensione. Sembra quasi giustificarsi perché ci sono delle persone che non la pensano come gli altri. Questa, direi, è una prima considerazione. La seconda considerazione importante è che non bisogna sottovalutare questa diversità di comportamenti, di vedute, tutt'altro. Non bisogna né sottovalutare né, secondo me, né anche criminalizzare. Bisogna cercare di continuare sulla strada, cercando di capire, cercando di convincere. Non credo che ci siano molte alternative. Ma la terza, come dire, la terza condizione perché questa riconciliazione avvenga, come in tante cose, è il successo. Se questa iniziativa ha successo e l'economia continua a funzionare bene, e i bar, e i ristoranti, soprattutto, ma ve lo ricordate il Natale l'anno scorso? Vogliamo conservarci un Natale diverso quest'anno? Un Natale come quello, appunto, a cui eravamo abituati prima della pandemia? Se questo ha successo, questo sarà il miglior modo di riconciliare persone con convinzioni e con comportamenti diversi. Serenella Matera per l'Ansa. Buonasera. Presidente, lei ha tratteggiato un quadro con contagi in peggioramento, soprattutto negli altri paesi europei e anche in paesi che confinano con l'Italia. Volevo chiedervi come si conciliano queste nuove misure sul Green Pass con la necessità anche di proteggersi dal contagio anche nell'imminenza delle vacanze, delle festività natalizie. Se pensate a nuove misure per gli ingressi da paesi stranieri e se temete in qualche modo dei contraccolpi sulla stagione turistica. Poi, se me lo concede, Presidente, le volevo chiedere se personalmente ha prenotato la terza dose. Grazie. Sì, dunque, la prima cosa, allora, su questo, questi vari interventi servono, a proposito della stagione turistica, proprio a dar certezze alla stagione turistica. In altre parole, qual era l'alternativa allo scorso anno? Allo scorso anno si guardava il peggioramento dei contagi, poi a un certo punto si diceva che probabilmente non sarebbe stato possibile tenere aperto durante la stagione turistica e poi si è deciso di non tenere aperto. Ma già prima della decisione finale, tutte le prenotazioni, o molte delle prenotazioni, erano scomparse. Quindi questa strategia tende invece a dire, guardate, se si fanno tutte queste cose, possiamo dire che avremo fatto il possibile per difenderci dalla diffusione della pandemia e mantenere aperta la stagione. Quindi questa è un po' la logica. Sui provvedimenti, stiamo effettivamente riflettendo sui provvedimenti dagli arrivi, per quanto riguarda gli arrivi dall'estero. Darei la parola al Ministro Speranza su questo. Sì, intanto proprio in queste ore è in corso un confronto importante a livello europeo. Ci viene comunicato che con tutta probabilità nei prossimi giorni ci sarà un aggiornamento delle regole di viaggio, delle raccomandazioni dell'Unione Europea. Noi leggeremo con grandissima attenzione quindi gli esiti di questo confronto europeo e poi valuteremo se adeguare le nostre misure. Voglio però ricordare che le misure oggi vigenti nel nostro Paese sono misure comunque piuttosto robuste e tra quelle più significative tra i Paesi europei e del mondo. Direi che l'altro intervento di cui abbiamo parlato con il Ministro Speranza riguarda i controlli ai valichi per quelli che non arrivano in aereo e in treno saranno controllati esattamente come ha appena detto il Ministro Speranza. Per quanto riguarda invece chi arriva in macchina ovviamente i controlli sono molto più complicati e stiamo pensando a una serie di controlli a campiona. Prego. La terza dose. Ah la terza dose l'ho fatta. Grazie. Bene c'è una domanda da Tg Lassetta, Alessandra Sardoni. Buonasera, le volevo chiedere due cose in realtà ma nella stessa domanda. Intanto il tema dei controlli, come saranno questi controlli? Il Ministro Speranza ha fatto capire che ci saranno questi riunioni però se ci sarà un input forte poi a realizzarli questi controlli perché non è un tema da poco soprattutto sul trasporto locale nelle nostre città. La seconda domanda, l'obiettivo è quello, lo ha detto, di spingere gli italiani appunto a poter avere un Natale, consentire agli italiani di avere un Natale sereno, aperto e con la possibilità anche ha detto lei di spendere o di acquistare. Le chiedo però se non desta preoccupazione o se non crede che questo possa essere un ostacolo il fatto che c'è un dati di inflazione e un caro prezzi importante che riguarda poi sia le materie prime, quindi cose di questo tipo, ma sia anche poi con la ricaduta sui prezzi al consumo. Sono due domande, stavo cercando di capire quello che aveva detto lei, la relazione tra le due, non c'è insomma. La convinzione del Consiglio dei Ministri è stata che i controlli sono una parte fondamentale di questa strategia e di questo è stata investita la Ministra dell'Interno e le forze di sicurezza verranno mobilitate in maniera totale, completa, piena. Il perimetro dei controlli è stato esteso, come è stato esteso il perimetro del Green Pass, anche al trasporto pubblico locale. Si era detto che appunto era difficile controllare, beh bisogna fare uno sforzo in più e fare dei controlli campionari, frequenti, insomma bisogna muoversi sui controlli. C'è la sensazione proprio che ho espresso io apertamente, ma anche altri Ministri, che questi controlli vanno rafforzati. C'è tutta un'anedotica del non rispetto dei controlli in alcuni posti, quindi occorre assolutamente che questo venga potenziato, venga intensificato. A questo sono state chiamate tutte le forze di sicurezza, anche la Polizia Municipale, i vigili urbani, eccetera. Ora dovremmo mettere su tutto l'impianto perché potrà essere un impianto che sarà un po' differente da prima. L'inflazione, no, il Governo non, diciamo, prima di tutto, questa inflazione è in parte anche causata dalla forte crescita del Paese. È anche causata da fattori esterni, anzi molto da fattori esterni, quali la, come dire, la difficoltà di approvvigionamento di alcune materie prime fondamentali, di alcuni materiali che sono correntemente usati in molte produzioni. E poi ci sono anche aumenti di prezzo invece nei generi più acquistati dalle persone, nei generi di consumo alimentare, per esempio. Per quanto riguarda alcune di queste, per esempio appunto la riduzione delle forniture di alcuni materiali fondamentali, questo dipende dal fatto che tutti i Paesi sono, attenuata se la pandemia, tutti i Paesi sono, come dire, rimbalzati. Quindi la domanda mondiale è aumentata e ci sono quelle che si chiamano strozzature. Quello che dicono gli specialisti di queste cose è che le strozzature a un certo punto cominceranno a, come dire, a diminuire. E dovrebbero sperabilmente diminuire. C'è però un aumento in particolare che colpisce un po' tutti gli italiani dell'aumento del prezzo dell'energia, del gas e dell'energia elettrica. Questo aumento dipende dal fatto che il prezzo del gas è molto aumentato. Alcune previsioni molto informate dicono che forse non continuerà ad aumentare nel corso dell'anno prossimo. Forse riscenderà a livelli più accettabili nel corso dell'anno prossimo. Il fatto è però che ha aumentato. Le bollette elettriche sono elettriche e del gas sono diventate molto pesanti. Il Governo ha già preso un provvedimento nel corso di quest'anno destinando 3 miliardi per alleggerire il carico delle bollette, specialmente su quelle fasce di consumo più vulnerabili, come sia famiglie sia piccole imprese. Per l'anno prossimo è previsto in legge di bilancio 1 miliardo, ma ritengo che il Governo sia pronto ad investire anche di più su questo. Perché è essenziale anche proprio per la ripresa dell'economia che questo rincaro dell'energia sia contenuto per le famiglie e per le imprese. Proprio per quel che ha detto lei, per mantenere la spesa poi per il resto ad un livello abbastanza elevato e per mantenere i livelli produttivi a un livello elevato. C'è una domanda da Chiara Albanese per l'Agenzia Bloomberg. Buonasera Presidente, grazie. Io sposto un pochino l'attenzione su un altro tema che è interessato molto questa settimana noi agenzie internazionali e quindi l'offerta è arrivata sul tavolo di Telecom Italia da parte del Fondo americano KKR. Volevo chiederle se l'offerta andrà avanti, ovviamente ci sono molte condizioni, cosa pensa di fare il Governo per proteggere poi la strategicità della rete e qual è il ragionamento che si fa oggi. Grazie. Sì, siamo ancora veramente ai primissimi passi in cui molte cose devono essere valutate. Quello che il Governo ha fatto, quello che il Governo ha già detto in un certo senso ma forse non in conferenza stampa, è che il Governo ha tre priorità nell'analizzare questa offerta, nell'analizzare anche in realtà il futuro di Team. Una è la protezione dell'occupazione e la seconda è la protezione della tecnologia. C'è tutta una tecnologia di grandissimo valore che è all'interno del gruppo Team, della società ed è sotto vari nomi di varie società ed è certamente una componente della società che va tutelata. E il terzo è la protezione della rete, dell'infrastruttura. Queste sono le priorità. All'interno di queste priorità poi il Governo analizzerà questa offerta e varie altre prospettive future per la società. Nel frattempo proprio a dimostrare come questa è una decisione di straordinaria importanza il Governo ha creato un comitato di Ministri che sono più direttamente coinvolti nella gestione e nella risposta a questa offerta. Ma in generale nella gestione, io non mi fermerei semplicemente a questa offerta, proprio nella gestione del settore telecomunicazioni. e sono il Ministro dell'Industria, il Ministro Colau, il Ministro Franco che presiede tra l'altro questo comitato. Quindi, non so se c'è una... Per quanto riguarda le questioni attinenti al lavoro ci sarà anche l'interessamento del Ministro Orlando, ovviamente, quando queste si porranno. Va bene, grazie. Ora una domanda dal Tg3, Mario Franco Cao. Grazie, buonasera. Torniamo al decreto, diciamo, la lotta alla pandemia, la campagna di vaccinazione. Non se ne è parlato finora, già nel corso della giornata è stata esclusa l'estensione del Green Pass sotto i 12 anni. Però credo che sia l'attenzione al Governo il tema dell'estensione della campagna di vaccinazione per i bambini tra 5 e 11 anni. Come ci si sta preparando e quali saranno le scadenze e i termini eventualmente? Grazie. Grazie. Rispondo, dico due parole, poi do la parola al Ministro Speranza. Sì, è all'attenzione. Stiamo aspettando la pronuncia del lema su questo, ma è stato deciso dal Consiglio dei Ministri di oggi di iniziare subito una importante campagna di informazione. Perché è prevedibile che ci possano essere delle esitazioni nel vaccinare i bambini più piccoli. Ecco, questo è quello che do la parola al Ministro Speranza, poi per lo stato della discussione su questo oggi. Sì, il percorso sarà il seguente. Il primo passaggio formale è l'approvazione da parte di EMA del vaccino Pfizer nella fascia 5-11 anni, nella dose ridotta, che è un terzo della dose che viene utilizzata finora. Probabilmente questa approvazione può avvenire già nella giornata di domani, queste sono le informazioni che abbiamo, ma comunque l'impegno è entro questa settimana. A quel punto gli atti formali verranno inviati ad AIFA, la nostra Agenzia Italiana del Farmaco, che farà le opportune verifiche e si pronuncerà con tutta probabilità, dando un parere che sarà allineato a quello di EMA. Poi evidentemente noi dobbiamo aspettare l'arrivo e la consegna da parte di Pfizer di queste dosi pediatriche, perché le dosi che vengono utilizzate non sono le stesse, sono differenti e verranno consegnate in date che non sono ancora certe, ma con tutta probabilità soltanto nella terza decada di dicembre. La data esatta verrà stabilita nei prossimi giorni e sarà oggetto anche di un confronto tra Pfizer e il commissario Filiuolo. Nel frattempo noi faremo una campagna di comunicazione. Al tavolo del Ministero della Salute già sono state convocate le principali società scientifiche, a partire dalla Società Scientifica Italiana di Pediatria, le organizzazioni dei pediatri italiani e io credo che l'indicazione che daremo come Governo sarà di ascoltare i propri pediatri e ascoltare i propri medici. Io penso che questa sia la indicazione più saggia. Molto spesso in questa campagna di vaccinazione circolano informazioni variegate su mezzi, su social. L'indicazione del Governo è di fidarsi della scienza, di fidarsi del nostro personale sanitario e in questo caso di ascoltare la voce dei nostri pediatri. Il messaggero Francesco Malfetano. Sì, buonasera. La domanda per lei, Presidente Draghi. Riguardo allo stato d'emergenza, il provvedimento che avete appena varato arriva fino al 15 di gennaio, però lo stato d'emergenza scatti il 31. Sappiamo che non sono necessariamente collegate le cose, però vorremmo capire se sarà prorogato e fino a quando nel caso. E un'altra domanda invece a cui, non so in realtà se forse il Ministro Speranza può rispondermi, rispetto alla campagna vaccinal alla riorganizzazione. Fino a questo momento sono stati chiusi circa il 30% dei grandi hub. Verranno riattivati, vista la riapertura dell'estensione della terza dose, anche perché dei colli di bottiglia nelle prenotazioni si stanno già verificando in questi giorni. Grazie. Sullo stato d'emergenza, come ho già detto un'altra volta, non mi azzardo a dire che abbiamo deciso niente un mese prima della scadenza dello stato d'emergenza, altrimenti il professor Cassese mi sgrida. Quindi valuteremo la situazione man mano che arriviamo a fine anno. Però la domanda che bisogna porsi è a noi cosa interessa? Prolungare l'emergenza o avere a disposizione tutta la struttura di vaccinazione, di ospedalizzazione, di mobilitazione sanitaria, di controlli, eccetera, che ci ha permesso finora di affrontare l'epidemia? Io credo che la risposta sia la seconda. Per cui la strada di buonsenso è quella di chiedersi se è possibile mantenere questa struttura senza necessariamente promulgare un altro stato di emergenza. Perché in fondo quello che conta è la seconda cosa, non la promulgazione. Però non lo so se questo è possibile. Lo vedremo. Grazie. Prego, M. Speranza. Sì, allora, è utile ricordare qualche numero, Presidente, perché i numeri della campagna vaccinale italiana sono numeri straordinari. Noi abbiamo superato 94 milioni di dosi somministrate. Se pensate solo per un istante che l'anno scorso di questi tempi aspettavamo l'arrivo delle primissime dosi che sarebbero arrivate sostanzialmente solo tra un mese, le prime iniezioni in Italia sono state fatte il 27 dicembre. In 11 mesi 94 milioni di dosi è un risultato veramente straordinario. E permettetemi di ringraziare in primis le donne e gli uomini del Servizio Sanitario Nazionale che lo hanno permesso, così come le regioni. E c'è stato un lavoro che credo sia davvero importante. Siamo all'87,02% di prime dosi e siamo all'84,25% di ciclo completo. Ad oggi abbiamo fatto 4 milioni e 700 mila booster, richiami, e solo nella giornata di ieri questa informazione me l'ha data stamattina il Commissario Filiolo che voglio ringraziare per il lavoro straordinario che svolge ogni giorno, abbiamo fatto 219 mila richiami. E' il dato più alto della nostra campagna di richiami. E' chiaro che ora rispetto all'obiettivo del Governo e cioè un'ulteriore robusta accelerazione sia sulle terze dosi e il nostro aspicio è anche sulle prime dosi, chiaramente, abbiamo bisogno di rimettere in campo tutta l'energia possibile. Il Commissario ha il lavoro insieme alle regioni, insieme a tutti noi per usare tutti gli strumenti che saranno necessari. Già alcuni hub stanno ripartendo, abbiamo lo strumento dei medici di medicina generale, abbiamo lo strumento delle farmacie, abbiamo la possibilità di rafforzare ulteriormente questa campagna perché il nostro primo grande obiettivo è far salire ancora i numeri della vaccinazione. Io voglio ribadirlo e mi fermo, ogni vaccino in più che riusciamo a somministrare abbiamo uno scudo più forte rispetto alle settimane che stanno arrivando e quindi sarà necessario sicuramente riattivare alcuni hub, lo faremo, ma investiremo tutte le energie di cui siamo a disposizione perché la campagna di vaccinazione è la vera priorità per il nostro Paese. Per la TV greca Cristian Marbris. Buonasera a tutti. Presidente, una domanda per lei. L'Europa sta affrontando in questo momento una nuova ondata pandemica però i Paesi stanno affrontando sia in ordine sparso e con misure abbastanza eterogenee tra loro appunto come risolvere la situazione che si sta creando. volevo sapere è prevista a livello europeo un modo per poter affrontare appunto questa nuova ondata a livello coordinato e contemporaneamente anche comunque ordinato tra virgolette. La ringrazio. parlo sotto lo stretto controllo del Ministro Speranza che mi corregge se dico qualche cosa sbagliata e il coordinamento in realtà tra i Paesi europei esiste solo per l'approvvigionamento per il resto si va un po' in ordine sparso è augurabile che questa situazione cambi però appunto il Ministro Speranza è in grado di dirvi di più su questo. è giustissimo quello che dice il Presidente del Consiglio c'è un impegno da parte di Ursula von der Leyen che il governo italiano sostiene fortemente l'impegno per costruire l'Unione Europea della Salute oggi questo è un progetto dobbiamo lavorare concretamente perché questo progetto nel più breve tempo possibile diventi realtà l'esperienza del joint procurement condiviso quindi dell'acquisto condiviso dei vaccini io credo che si sia rivelato un'esperienza positiva io mi auguro che la si possa utilizzare anche per l'acquisto di altri farmaci penso ad esempio alle pillole antivirali che speriamo di poter utilizzare al più presto e io penso che questa pandemia ci dimostri che la salute non è un tema solo nazionale la salute è un grande tema internazionale e come tale va trattato e quindi l'Europa ha bisogno di essere protagonista in questo ambito. Rai News Gabriele Martelloni Buonasera Presidente buonasera Ministri con questo decreto ovviamente come ha ricordato anche lei si vuole anche tutelare l'economia e dare sostegno alla crescita che è in atto il tassello fondamentale per il rilancio del Paese però resta il PNRR su questo fronte visto che manca un mese all'incirca al termine di quelli che sono gli investimenti e le riforme per quest'anno ci può dire a che punto siamo c'è un ritardo del governo serve accelerare oppure siamo in linea siamo in linea i nostri 51 obiettivi li raggiungeremo con certezza prima di fine anno quindi siamo in linea cose importanti da sapere che sta succedendo e che metteremo sul sito della Presidenza entro qualche giorno primo i fondi che sono stati già distribuiti dal Ministero delle Infrastrutture sono non voglio dire una cifra che è sbagliata ma sono moltissimi sono una gran parte o comunque una parte cospicua del totale dei fondi del piano e quindi quello che metteremo sul sito della Presidenza sarà la distribuzione di questi fondi quanti sono a chi sono andati a chi sono andati significa comuni regioni ministeri e questo in modo che si sa intanto cominciamo a tracciare il primo passo di questi secondo punto ci sarà la pubblicazione dei bandi dei bandi da parte del Ministero dell'Università della ricerca dei bandi da parte del Ministero della Scuola per quel che riguarda l'edilizia scolastica e altre cose quindi la macchina sta andando avanti sta andando avanti bene bisogna però essere molto come dire vigili perché insomma questa è un'esperienza molto nuova in realtà forse uno dei grandi ostacoli alla crescita dell'Italia negli ultimi trent'anni è stata la difficoltà di spendere per investimenti per infrastrutture per questo ci sarà c'è anzi si sta completando un sistema di monitoraggio che segue il progetto esattamente dal momento del primo esborso al bando alla spesa all'attuazione dei lavori questo monitoraggio ora è stato attuato dal MEF in collaborazione con la SOGEI e con altre società e con altre esperienze tecniche ed è esattamente quella come dire quell'interfaccia che è necessario per la Commissione europea perché noi in questo modo sappiamo dire esattamente come stanno le cose in ogni momento e se ci dovessero essere dei ritardi ci sono degli come dire degli warnings degli allarmi che permettono immediatamente a tutta una serie di competenze di intervenire per poi arrivare alla fine che sono appunto l'esercizio dei famosi poteri sostitutivi che sono nella legge del PNRR che permettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Governo del Consiglio dei Ministri di intervenire quando qualche cosa si ferma nella pubblica amministrazione quindi l'impressione che stiamo andando molto bene ecco tra l'altro dunque noi dovremmo la successione è anche questa quando conseguiremo questi obiettivi si firmerà un accordo con la Commissione che si chiama accordo operativo nessun altro paese è riuscito tranne uno la Spagna tutti gli altri paesi non hanno ancora firmato questo accordo la cui firma dovrebbe venire prima della fine di dicembre e poi da quel momento passeranno circa due mesi due mesi e mezzo non è chiaro ancora perché dipende un po' da vari tempi di lavoro prima dell'esborso della seconda tranche o della prima se il primo era un acconto insomma e in questo periodo di tempo verranno la risposta la come dire la soddisfazione degli obiettivi da parte dell'Italia verrà valutata verrà valutata dalla Commissione verrà valutata da una serie di comitati che più o meno sono quelli poi gli stessi passaggi che ha avuto il piano originariamente quindi questa è la sequenza grazie c'è tempo ancora per due domande veloci il sole 24 ore Barbara sì buonasera presidente buonasera una domanda rapidissima ma come ha fatto a convincere Salvini del fatto che si poteva adottare il super green pass già in zona bianca se le regioni da questo punto di vista erano state più convincenti per appunto spingere sulla zona bianca guardi non lo so ma sono come dire è un po' io non ci sono stati come dire sforzi di convinzione o cose di questo tipo ma è proprio la prospettiva che è stata data direi in primis proprio espressa in primis proprio dai presidenti delle regioni dal presidente Fedriga ma anche dagli altri governatori la domanda non è quella di chiedersi quando entreremo in zona X che cosa dovremo chiudere la domanda è non vogliamo chiudere che cosa dobbiamo fare oggi per non chiudere questa è la prospettiva e secondo me è molto convincente questa c'era anche la paura forse che ci fosse un turismo tra nobats cioè tra le persone che magari andranno in regioni bianche per andare in discoteto al ristorante non possedendo il superfino pazza perché nella loro regione già non è evidentemente ecco comunque ora c'è una situazione che direi sì c'è un'ultima domanda da Alessandro Barbera la stampa presidente buonasera lei ha appena spiegato le ragioni per le quali sostanzialmente non sembra particolarmente favorevole alla proroga dello stato di emergenza no no non ho detto questo ho detto semplicemente cosa occorrerebbe fare attenzione non mi faccia dire cose che non ho detto no 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 comunque diciamo pensa che si potrebbe anche evitare ci potrebbero essere condizioni per evitare non ho detto neanche questo comunque la domanda era questa c'è l'ipotesi che sono state emergenza stiamo facendo un rafforzamento delle misure necessarie a prevenire il virus pur avendo numeri estremamente diversi da quelli di un anno fa lei ha partito ha cominciato la conferenza stampa dicendo speriamo che questo sia l'ultimo sia un Natale possa essere un Natale normale le volevo chiedere se lei crede che questo sarà l'ultimo Natale anormale per gli italiani e se magari il prossimo per caso il Natale lo passerà al Quirinale spero che sia un Natale normale questo questo qua se abbiamo un po' di restrizioni diciamo per i vaccinati è normale questo Natale e speriamo poi che la pandemia si evolva in maniera tale che il prossimo Natale sarà veramente un Natale per tutti questo è quello che vogliamo riconquistare che lo sia per tutti ha ragione lei a dire effettivamente bisogna che anche coloro che oggi saranno che da oggi saranno oggetto di restrizioni oppure comunque a cui saranno riservate le restrizioni possano essere tornare a essere parte di tutti della società con tutti noi grazie allora grazie buona serata a tutti grazie grazie termina così il nostro momento di informazione chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive di